Settantasette. Settantasette. Giving reasons, three. Giustificare qualcosa, tre. Giustificare qualcosa, tre. Why aren't you eating the cake? Perché non mangia la torta? Perché non mangia la torta? I must lose weight. Devo dimagrire. Devo dimagrire. I'm not eating it because I must lose weight. Non la mangio perché devo dimagrire. Non la mangio perché devo dimagrire. Why aren't you drinking the beer? Perché non beve la birra? I have to drive. Devo guidare. I'm not drinking it because I have to drive. Non la bevo perché devo guidare. Non la bevo perché devo guidare. Perché non bevi il caffè? 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 È freddo. È freddo. I'm not drinking it because it is cold. Non lo bevo perché è freddo. Non lo bevo perché è freddo. Non lo bevo perché non ho zucchero. Non lo bevo perché non ho zucchero. Why aren't you eating the soup? Perché non mangia la minestra? Perché non mangia la minestra? I didn't order it. Non l'ho ordinata. Non l'ho ordinata. I'm not eating it because I didn't order it. Non la mangio perché non l'ho ordinata. Non la mangio perché non l'ho ordinata. Why don't you eat the meat? Perché non mangia la carne? I am a vegetarian. Sono vegetariano. I'm not eating it because I'm a vegetarian. Non la mangio perché sono vegetariano. Non la mangio perché sono vegetariano.